Preside, tutto pronto? Domani al campo Vincenzo Presti c'è ancora una volta questa iniziativa. Le chiedo subito, qual è la valenza che si dà anche ad un incontro di calcio? La valenza è sicuramente fondamentale e importante, perché la partita di calcio serve proprio per veicolare quelle che sono le regole, rispetto alle regole, la confidenza civile. La scuola si fa promotrice di questa educazione alla legalità. Educazione alla legalità che non basta attraverso una sola disciplina, ma è un'educazione trasversale, perché interessa tutte le discipline, in quanto i docenti, oltre a trasmettere i contenuti, naturalmente trasmettono anche i valori, i valori della convivenza, i valori del rispetto alle regole, i valori dei diritti e doveri. Quindi il nostro progetto, che è stato già realizzato con la ricorrenza sul settantesimo, ha avuto appunto questo scopo, quello di far capire ai ragazzi che sono portatori di diritti e doveri, quindi della conoscenza degli articoli della Costituzione, ma soprattutto, ripeto, abbiamo abbinato questo discorso della partita di calcio, appunto per far sì che la squadra, quindi il gioco, il gioco di gruppo, è fondamentale, perché attraverso il gioco di gruppo c'è rispetto alle regole, e quindi si conica perfettamente con quelli che sono gli obiettivi che la scuola si è proposta. Per voi l'importante è partecipare, come diceva De Cupertano, oppure volete vincere? Eh beh, l'importante è partecipare, vincere si vedrà, insomma. Il perché stiamo facendo questa partita tra la nostra associazione e l'istituto alberghiero, l'istituto commerciale, ha doppio scopo, uno per sensibilizzare i ragazzi attraverso lo sport al rispetto delle regole, seconda cosa, come abbiamo messo, abbiamo evidenziato nella locandina, perché lo sport è legalità e non discrimina, quindi sarà un incontro di calcio dove sia la nostra associazione che gli istituti scolastico manifesteranno attraverso lo sport la legalità. Saranno presenti tutti gli studenti dell'istituto alberghiero e dell'istituto commerciale, anzi, per essere ancora più sicuri della loro presenza, i professori chiameranno all'appello proprio presso lo stadio Vincenzo Presti.